Allora ragazzi, prima di iniziare il video vi ricordo che oggi imiterò le persone che inventano glitch perchè come sapete sono tutti falsi Io li imiterò, spero che vi faccia divertire Beh, iniziamo con il video Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Io sono Samuele33 e in questo video vi faremo un glitch come avere brawler gratis Allora, questo glitch prima si fa Allora, andate sulle impostazioni Blocco icone e levette, sì, no Poi musica, no, sì E fettisoni, no, sì Poi, dovete mettere la lingua in inglese Ok Andiamo, andiamo, dai 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 Non è che ci aspetta lì, ci da fare Allora, ok Allora, dovete, allora Io metto Pocho Anzi no Metto Jesse Ok E devo fare una partita solo Solo sopravvivenza Vai Allora ragazzi Allora, questo glitch funziona In questa partita Non dovete arrivare decimi Ma da non in poi, sì Cioè, quindi da Quindi non deve arrivare Non dovete arrivare in posizione dieci Ma almeno nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno Scusate raga, mi laggo un po' però Perché Non ho una buona connessione Sta laggando Allora, andiamo qua perché Comunque Stiamo morendo male Là c'è un Frank Là c'è un Colt Muori Colt Sì Mamma mia, sono morto assieme a lui Vabbè, siamo arrivati quindi Più due coppe Ok Allora, torniamo alla nostra bella schermata home Allora, e questa volta dovete mettervi Dynamite Fare così Ok Poi create un amichevole Tenendovi sempre Dynamite Andate sul cammino di trofei Dovete cliccare su tutti i brawler del cammino di trofei Uno Due Tre Quattro Cinque Sei E sette Ok raga, dopo aver fatto questo Andate nel negozio Fate così Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Ok Poi cliccate su Colt Andate sul negozio Fate così E allora Cinque volte Poi Cliccate sugli oggetti che avete già ottenuto per tante volte Ok Dovete cliccare Allora ragazzi Non dovete cliccare Cioè allora dovete cliccarlo più di dieci volte Altrimenti il glice è fallito E questo glice avrò potete riprovare a farlo Allora Poi dobbiamo fare Su tutti i brawler che non abbiamo Dobbiamo cliccarci sopra Ok Ok Un Qua Ok Ok Allora poi andate sul brawler che volete sbloccare In questo caso io voglio sbloccare Corvo Anche se è il leggendario più scarso di tutti E dovete fare così al brawler che volete trovare Ok Poi ritornate qua Andate su notizie E lo cliccate tre volte Come ho fatto adesso io Poi dovete mettere Marraffa gemme La penultima La penultima Mappa Ovvero questa Aspettate che ve la indico Questa E allora poi lo mettete Allora poi Uscite dall'amichevole E allora Sempre con Dynamike Vi fate una partita In ricercati Sempre con la lingua inglese Sempre con tutte le cose Che abbiamo fatto Se il telefono Si scarica Sarà Il momento giusto E Allora Non importa se vincete O perdete la partita Ma l'importante è che Fate questa partita Così il glitch funziona Allora vai Oh no Già hanno killato Tanti Allora mi sta laggando Bene Era il momento giusto Per laggare Siamo però a parità Tanto noi lanciamo qua Tanto quel Dynamike È morto Allora Devo killare qualcun altro Perché se ci ammazzano Noi partiamo Che cavolo Ragazzi Non è giusto Ma perché Nessuno Questo colt Che mi ha rotto Le scatole Ammazziamo Quest'orso Ok Oh 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 Sto perdendo Un sacco di coppe Ne ho perso 8 Ma ne ho recuperato 2 Spero di non perderne Altre 3 Oh raga Stiamo andando bene No Non stiamo andando più bene Che cavolo Trovo solo dei nabbi Se ci serviamo all'ultimo Io Grido Niente raga Abbiamo perso 3 coppe Che cavolo Lo sono perso Che cavolo Meno 3 Allora Ora vi faccio vedere Nel cammino di trofi Quante coppe ho perso Ci ho guardato Un pochino Però Allora Dopo Vi dovete mettere Stecca E poi E poi Fare una partita Nell'allenamento Con stecca scoppiettante Volete sapere Il perché Perché Tipo Sta per Il boom Del glitch Tipo Puff 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 Allora Dovete ammazzare I 4 robottini Anche se si rigenerano Ehm Voi Non li dovete attaccare Basta che attaccate Solo loro Ok Dopo uscite E andiamo Sul Sul Club chat E scriviamo Allora scriviamo www Punto Slash Slash New Brawler Slash Slash Trattino Basso E scrivete Il vostro Nome In questo caso Io Samuele 33 E scrivete Accanto Il colore Del vostro Nome Allora Io scrivo Azzurino Slash Slash E inviate Ok Allora Voi appena Aprirete La cassa Non ti troverai Brawler Io Di sicuro Lo troverò Perché Lo sa Comunque L'ho trovata Tre mesetti Fa Almeno Mi ricordo L'ho trovata Inizio Primavera Quindi Già Un po' Di tempo E niente Ragazzi Spero che Questo Glice Vi sia Piaciuto Lasciate Un mi piace Iscrivetevi Al mio Canale Mettete Like E ci diamo Con un prossimo Video Ragazzi Che Cioè Allora In realtà Questo glitch Non funziona In realtà Non è niente Sto glitch Non lo sono inventato Però Era per Imitare I ragazzi Che fanno Sempre Sì Ragazzi Facciamo Questo glitch Quindi Non provateci Era solo Per imitarli Imitare Loro Delle loro Stupidaggini Tipo Il glitch Allora Se questo video Arriva a 5 Mi piace Vi porterò Un'altro Imitazione Sui glitch Ciao